Siamo a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, nel mezzo innanzitutto, prima ancora di queste qualificazioni mondiali Under 21, c'è stata l'amichevole della nazionale in Croazia. L'hai detto subito dopo la partita, non è stata la migliore prestazione della nostra nazionale, al di là della difficoltà della partita, chiaramente c'erano degli obiettivi da te delineati nel corso della partita. Che cosa non è andato in modo particolare a tuo avviso? Non è andato l'approccio iniziale perché abbiamo avuto delle grandi difficoltà, loro ad un certo momento quando noi abbiamo sbagliato delle seconde fasi veloci hanno chiuso la partita quasi con due o tre prime fasi. A questo non è possibile, a questi livelli concedere queste palle intercettate. Dopodiché non abbiamo mai retto l'urto di questa Croazia, quindi bisogna dire che non è andata bene come partita. Ci siamo allenati con tantissime difficoltà perché non eravamo tanti, abbiamo perso dei giocatori per infortunio o per malattia. La partita di conseguenza non è andata bene. La cosa che mi dispiace è che non aver potuto continuare questo lavoro perché poi ci stanno le partite che vanno male, ma bisogna avere la forza di analizzarle insieme e migliorare, avere un'altra chance, avere altre partite. che è appunto la cosa che fanno i nostri avversari in questo momento. Noi invece purtroppo siamo tornati a casa dopo la Croazia e starà un po' a me a cercare di dare continuità, facendo anche delle analisi online di questa partita, cercando di chiamare i giocatori, di dargli degli obiettivi da qui a tre mesi che ci separano appunto dall'Elettonia. Si è parlato di giovani, ne abbiamo visto uno in particolare nella gara contro la Croazia, Cristian Manovilovic naturalmente, senza voler mettere nessuna pressione assolutamente su Cristian ci mancherebbe, però è una rotazione in più che ha dimostrato comunque di poter dare dei minuti e ha già dimostrato più volte anche in Serie A Gold di saper giocare bene a pala a mano. Sì, infatti tutto nasce da lì perché vedendolo tutte le volte in partita in Serie A mi sono accorto che ha le qualità tecniche e fisiche per poter stare in nazionale senior, nonostante l'età. A lui manca ancora l'esperienza e soprattutto la gestione dei palloni, però siccome l'anno scorso con la Juniors ha giocato molto bene, quindi in un contesto diverso, con più responsabilità, ho provato perché vado cercando proprio contro la Lettonia e la Polonia un altro giocatore esterno e dobbiamo dire che ha fatto benissimo anche in un ruolo non suo di terzino destro, per cui è molto molto bene questo esperimento perché l'avremo bisogno. Io spero nel rientro di Bortoli, ma un giocatore destro di mano che sappia fare quelle cose che ha mostrato Manovilovic è molto importante. Rimaniamo in tema di giovani, hai tirato in ballo anche Thomas Bortoli che non ci sarà in queste qualificazioni mondiali Under 21, stai seguendo naturalmente qui a Chieti, gruppo con alcune novità, come si presenta questa squadra alle qualificazioni? Bortoli ci mancherà sicuramente, sarebbe ipocresia a dire il contrario, però sono fiducioso perché ho visto Rovatin che era in dubbio, è in dubbio, penso che lui potrà giocare, magari non avrà il tiro dell'estate passata, ma non importa, è meglio averlo, un capitano in campo è troppo importante. Speriamo di recuperare anche Aldini perché è in forza anche lui. Detto questo, in più rispetto all'ultima uscita in Portogallo, l'apporto di Manovilovic e l'apporto spero anche di Zanon perché non ci dimentichiamo che Zanon veniva da un lungo infortunio, per cui è cambiato tantissimo. Abbiamo visto che in Serie A è un signor terzino, per cui se lui si scioglie un po' sarà il giocatore che sostituirà anche Bortoli e noi ce lo auguriamo.